La società L'Aquila Calcio 1927 ha avuto ieri mattina un incontro in comune con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e gli assessori Emanuele Aiorio e Maurizio Capri. Erano presenti per la società Rosso Blu il presidente Corrado Chiodi, il vice Massimo Mancini e lo sponsor Eliseo Iannini. L'oggetto della discussione, in forma a una nota della stessa società, è stato ovviamente la retrocessione della squadra e i possibili scenari futuri legati a questo accadimento. La società ha dichiarato che già dalla prossima assemblea dei soci, il 6 giugno prossimo, si lavorerà per una operazione di ricompattamento, ribadendo l'impegno a portare avanti il progetto sportivo con una dovuta ripienificazione e riorganizzazione quanto mai necessaria. Questo a prescindere dalla categoria nella quale si giocherà attualmente la Serie D, ma con un lavoro che già si sta avviando per presentare la domanda di ripescaggio. Nel corso dell'incontro si è parlato anche della questione stadio di Acqua Santa, i cui lavori sono quasi ultimati. La consegna, infatti, tra le altre cose, elemento essenziale per la presentazione della domanda di ripescaggio. La società Rosso Blu, dunque, auspica che la consegna possa avvenire in tempi rapidi e, in tal senso, ha avuto rassicurazioni dall'assessore Capri. Anche il sindaco Massimo Cialente si è detto determinato a non lasciare solo l'Aquila Calcio ed ha sollecitato tempi brevi e immediatezza per risolvere tutti gli ultimi problemi legati alla questione del campo.